Gli integratori brucia-grasso fanno quello che promettono? Sono Filippo Ongaro. Nella infinita ricerca di soluzioni per regolare il peso e ridurre in qualche modo quella ciccia che si accumula nel corso degli anni, ovviamente trovano anche il loro ruolo gli integratori cosiddetti brucia-grasso o in termini più tecnici termogenici. Sono degli integratori che in un certo modo si prefiggono di aumentare la velocità del nostro metabolismo e quindi di rendere un po' più facile il consumo di grassi depositati, ovviamente nell'ottica in cui una persona sta comunque gestendo una dieta in maniera intelligente e un'esposizione a un programma di attività fisica altrettanto strutturato. Sono in genere dei mix di sostanze che possono contenere caffeina, sinefrina, garsigna cambogia, possono contenere arancio amaro, possono contenere diverse sostanze, capsaicina del peperoncino, che sono tutte isolatamente state in qualche modo, si è visto che sono tutte in qualche modo capaci di dare questa accelerazione del metabolismo. Allora, i dati scientifici ci sono, ma non è che sono tantissimi e non è nemmeno che siano, come posso dire, fortemente significativi, però delle indicazioni da studi ben costruiti che un'assunzione di termogenici può aumentare il metabolismo basale c'è. La maggior parte dei dati indica anche un'altra cosa che ritengo che sia importante, questo aumento del metabolismo basale è quasi sempre accompagnato da una leggera tendenza all'aumento della pressione arteriosa. Dunque, il termogenico nel soggetto che può soffrire di ipertensione, e purtroppo qui ci sono soggetti che sanno di soffrire di ipertensione, soggetti che non sanno di soffrire di ipertensione, o in soggetti che tendono a essere tachicardici, questi sono integratori che non dovrebbero essere usati e la tendenza, dal mio punto di vista, dovrebbe essere che il termogenico è suggerito da un medico sulla base, appunto, di questi criteri, perché se il soggetto, per esempio, è iperteso ma non sa di essere, ci può essere un effetto negativo. Allora, la cosa importante qui è capire, sono tre cose che hanno una certa importanza. Allora, la prima è, sono effetti modesti. non vorrei essere pessimista, ma se ci aspettiamo di dimagrire grazie al termogenico, ecco, posso assicurare che non è così, e sono effetti che tendono a diminuire con il tempo, e questo è un punto particolarmente negativo, perché invece ci vuole tempo per regolarizzare il peso, e dunque, mano a mano che assumi il termogenico, in realtà l'effetto diventa sempre meno. È un po' lo stesso discorso che si fa con la caffeina. La caffeina è una sostanza ergogenica, aiuta, diciamo, nella prestazione atletica, ma lo è nella misura in cui non sei un bevitore abituale di caffè, per esempio, perché altrimenti quell'effetto diventa molto, molto irrisorio. Così succede col termogenico, diciamo, con il tempo l'effetto diventa sempre meno, e quindi, in un certo senso, dopo un po' diventano inutili. E la terza cosa è, non compensa, lascio solo questo come scritta, tanto perché ti si, in qualche modo focalizzi, non compensa il fatto che tu stia facendo ancora errori nella dieta, non stia facendo attività fisica sufficiente, cioè il termogenico utilizzato dalla persona che spera di perdere peso, ma in realtà non sta facendo le azioni giuste per perdere peso, ha un effetto praticamente nullo. Quindi si possono usare, dal mio punto di vista, dopo averne parlato con il medico, e essere certi di non essere tra quelle persone che non dovrebbero usarli, gli effetti sono piuttosto modesti, però possono esserci degli effetti di aiuto, fermo restando che bisogna avere una dieta ben strutturata, un approccio nutrizionale ben strutturato, e un approccio all'attività fisica, e ovviamente il ragionamento sul tempo, che mano a mano che utilizzi queste sostanze, l'effetto diventa sempre minore. Il mio consiglio rimane sempre lo stesso, al di là di tutte le diete che esistono, alcune funzionano, alcune non funzionano, o meglio, alcune funzionano meglio, altre funzionano meno, però fondamentalmente il tema è dobbiamo imparare a mangiare bene sempre, perché la dieta a termine o l'utilizzo del termogenico possono essere delle piccole aggiunte in certi momenti, ma non dovrebbero essere la soluzione cronica. La ragione per cui io ho creato il corso Nutrizione Potenziativa, che trovi online nel mio sito, nella sezione corsi, è proprio quella di aiutare le persone e impostare l'alimentazione propria della propria famiglia in una maniera scientificamente rigorosa, senza penalizzare troppo il gusto e sacrificarsi troppo, ma anche senza dover ricorrere poi di tanto in tanto alla dieta esasperata, eccessiva, che, diciamo, anche se magari ti porta i risultati, ti porta a questi risultati a discapito di un approccio più equilibrato e più in sintonia con la nostra salute.